salve in questo video parleremo del vissuto amoroso del narcisista partiamo col dire che la psiche è ciò che ci rende individui particolari e unici ed è il nostro compito comprendere questa unicità psicologica gli strumenti che abbiamo a disposizione sono l'empatia la sensibilità e diciamo pure la fantasia per sua natura l'esperienza psicologica è tale da non poter essere data per scontata in quanto è inafferrabile ed è per questo che è così affascinante ogni psicologo sa bene quanti sogni ognuno di noi coltivi nel segreto della propria anima e quanti pochi poi se ne realizzino veramente l'amore è un grande sogno tutti noi vorremmo innamorarci ed essere sedotti dalla vita il vissuto amoroso però nella sua espressione più piena e profonda è un'esperienza totale di accrescimento ma fin dove può arrivare un narcisista fin dove può spingersi in nome della passione ho più volte ribadito nei miei vari video che vivere il sentimento implica un aprirsi e un sapersi abbandonare alle emozioni e questo è il punto di arrivo di una lunga e complessa serie di trasformazioni degli impulsi e dei desideri più elementari ma questa metamorfosi non avviene da sé accade all'insegna della sofferenza e diciamo pure della follia dunque ci chiediamo quanto il narcisista e più in generale l'uomo moderno sia in grado di accettare la sfida che ogni rapporto implica con la sua componente di paura per l'ignoto che ogni rapporto in sé rappresenta nelle fasi iniziali il rapporto amoroso si nutre di un investimento immaginario tant'è che si osserva il partner con lo sguardo incantato e lo si rende il centro del mondo in questi momenti le linee di demarcazione fra il reale e la fantasia divengono sempre più sfumate l'immagine di chi ci sta dinanzi viene trasfigurata ed è proprio questa trasfigurazione che può fare paura perché è qualcosa di destabilizzante per l'io che vorrebbe sempre tutto sotto controllo chi si innamora proietta sul partner i propri contenuti inconsci ma l'uomo teme è ciò che è inconscio cioè ciò che non conosce l'uomo comune ama il confortevole abbraccio del già noto il famoso status quo ora il narcisista ha paura dei sentimenti perché i sentimenti non sono controllabili e possiedono l'immenso potere di trasformare la realtà illuminandola con una luce completamente nuova i sentimenti sono in grado di riscrivere e reinterpretare il reale perciò l'esperienza amorosa si nutre di una profonda trasfigurazione del reale quando si è catturati dalla passione è pressoché impossibile confrontarsi con una immagine fedele della persona amata inizialmente l'altro ci appare privo di limiti e di difetti ecco perché il narcisista non esita a dichiararsi pronto a compiere qualsiasi azione ma fino a che punto può spingersi e per quanto tempo qual è il suo limite una persona normale per amore può arrivare a fare follie e questa espressione suggestiva descrive bene la dedizione totale dell'innamorato verso il suo oggetto d'amore in quanto l'innamorato si annulla in funzione dell'altro e non si riesce più a distinguere i confini della propria individualità che viene confusa con quella dell'altro quando arriva a questo punto il narcisista si ferma su questo instabile terreno di follia amorosa cioè di perdita dei propri confini individuali il narcisista fa un passo indietro perché ha paura di perdere il controllo così non riesce a vivere in maniera prolungata l'esperienza passionale in quanto potrebbe trasformarsi in una relazione autentica e di profonda così concentra tutte le sue energie nel qui e ora in un momento da vivere intensamente ma senza futuro precludendosi ogni possibilità di crescita psicologica in questo modo il suo coinvolgimento affettivo si dissolve come una bolla di sapone iniziamo a capire che il narcisista tende a scegliere un partner sposato e questo non è un caso si tratta di un tipo di scelta che fa capire subito come il narcisista non si è interessato a creare un legame definitivo inoltre il narcisista è anche orgoglioso di riuscire a strappare ad un altro uomo o ad un'altra donna quello che è un vero e proprio oggetto del desiderio cioè l'altro e si culla nell'illusione di poter vivere una situazione privilegiata abbandonandosi con fiducia allo scorrere del tempo prima o poi però sorge l'angoscia un'angoscia dovuta alla paura di vivere fino in fondo un sentimento che cresce e rischia di diventare fagocitante il narcisista ha paura di essere travolto dai sentimenti e scappa taglia la corda ma finisce fatalmente per scegliere ogni volta la persona sbagliata che però per lui è quella giusta in quanto può essere facilmente abbandonata la conseguenza di questi continui abbandoni è un crollo di fiducia in se stesso che il narcisista compensa con l'illusione onnipotente di poter controllare la vittima finché non diventerà l'ennesima persona sbagliata da lasciare in realtà un modello di persona giusta sarebbe il partner usa e getta ma potremmo anche dire che per il narcisista il modello di persona giusta è proprio la persona sbagliata in quanto lui ha la necessità di incontrare la persona sbagliata che gli consente al momento giusto di scappare via senza venire travolto dai sentimenti ora ogni rapporto è una conquista un'impresa a cui occorre dedicarsi giorno per giorno con passione e creatività in quanto lo stare insieme va alimentato istante per istante il narcisista però non è in grado di coltivare a lungo il rapporto e così accade che prima o poi smette di elargire all'altro il suo nutrimento e si apre una crisi in questa crisi la cosa più importante per la vittima è cercare di rimanere fedele a se stessa senza tradire se stessa concedendosi in balia del narcisista la vittima deve avere il coraggio e la lucidità di rompere un'armonia fittizia che non è più valida proteggendo se stessa e la propria unicità la vittima è chiamata a cogliere in essi tra gli accadimenti della sua vita proprio come farebbe un poeta con la sua capacità di vedere la verità al ridosso dei simboli superando il senso letterale delle cose perché il problema della vittima non è solo il trauma dell'abbandono ma è soprattutto il ricordo che si farà di quel trauma perciò la vittima dovrebbe iniziare a modificare la narrazione di quei fatti per uscire dal ruolo di vittima ecco vedete non esiste un metodo unico per elaborare il dolore di un abbandono non c'è un percorso prefissato ma dobbiamo affidarci all'intuito che ci dà quel guizzo creativo l'intuito è un'indicazione irresistibile verso la strada che sia giusta o sbagliata non lo sappiamo finché non la percorriamo e non è un caso che jung considerasse l'intuizione fra le quattro facoltà che compongono la coscienza ma all'intuito serve il supporto del pensiero del sentimento e della sensazione per compiere una scelta corretta e non affrettata anche perché gli affari del cuore hanno bisogno di navigare in acque mosse poi il dinamismo della conflittualità va convogliato creativamente allora sì che si cambia bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube per essere informati sui nuovi video di psicologia cliccando sul simbolo del campanello potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia il mio sito è www.robertoruga.it infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype la videochiamata su whatsapp oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 per richiedere una consulenza psicologica specificando il nome il cognome e gli orari preferiti in bocca al lupo e buona giornata